Abbiamo deciso in giunta, anche ci erano arrivate delle richieste di alcuni ristoratori, quindi abbiamo pensato di agevolare le attività economiche della nostra città e quindi avranno la possibilità fino alla stagione invernale, quindi speriamo che ci siano le giornate come oggi di sole e di poter rimanere con gli stessi spazi che hanno richiesto per l'estate. Una modifica è necessaria solamente per quelle attività che si trovano su zone pedonali? Allora, per quanto riguarda quelle concessioni che sono state rilasciate tramite APU, dovranno riscrivere di nuovo all'ufficio attività economiche, ma velocemente troveranno una soluzione. Ed è una misura che ha soddisfatto tante imprese proprio per il periodo di lockdown e il successivo che si è vissuto a causa dell'emergenza Covid-19? Sì, abbiamo avuto una risposta positiva, le attività sono rimaste contenti, abbiamo avuto anche un incontro pochi giorni fa con alcune attività del mare e ci hanno detto che finalmente hanno avuto anche una risposta riguardo al fatto che non pagheranno la TOSAP. Novità anche poi per il bando destinato alla comunicazione delle aziende pesaresi? Sì, esatto, il bando è partito, sono arrivate le richieste dalle imprese, ora gli uffici stanno controllando che sia tutto in regola e poi verrà guardata la data di arrivo e l'orario e poi potranno accedere ai 5.000 euro con i voucher come avevamo promesso. Ricordo che è la prima volta che un comune riesce a fare un bando indirizzato alla piccola e media impresa. Possono inviare le domande nel sito del comune di Pesaro, è chiaro che devono essere tutte domande che seguono il bando e i requisiti, ad esempio attenzione anche ai codici Ateco che sono all'interno del bando.